Ormai la questione rifiuti in città è diventata una dimostrazione di forza tra amministrazione comunale e ditta. La Dasti, che in proroga da anni, gestisce ad Acireale il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il braccio di ferro tra diritti e doveri del comune e diritti e doveri dell'azienda. Nel mezzo ci sono i disservizi che si ripercuotano sulla vivibilità della città, stretta nella morsa della sporcizia di strade e piazze non ripulite, cassonetti stracolmi di sacchetti di spazzatura e non svuotati e campane della raccolta differenziata non efficienti. Il 30 settembre, data della scadenza dell'ennesima proroga, si avvicina e non si esclude, anzi si respira da tempo, l'ipotesi che non ce ne sia un'altra di proroga, anzi che l'appalto possa essere affidato ad un'altra ditta, prima che venga pubblicato il bando per l'affidamento della gara per la gestione dei rifiuti prevista dal nuovo piano di gestione dell'Aro. Tra i temi caldi dell'estate accese c'è stata anche la corrispondenza tra amministrazione e dasti, dove tra accuse da una parte e giustificazioni dell'altra il nodo resta l'inefficienza del servizio. Grazie. 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 Grazie.